Ci tenevamo perché completare l'opera oggi è stata una cosa sicuramente positiva. Abbiamo avuto una crescita notevole dalla prima partita di Zagabria ad oggi qua a Kharkiv e di questo sono veramente contento della crescita di tutti i ragazzi. Tra l'altro lo Shakhtar ha detto che questa è stata la miglior partita dei loro ragazzi. Sono state tutte partite equilibrate queste di Youth League perché poi è vero che noi le ultime quattro le abbiamo vinte, abbiamo sempre fatto bene però il livello è più alto rispetto al campionato. Oggi ce la siamo un po' complicata perché quando la partita sembrava finita sul 2-0 ci siamo un po' abbassati e loro hanno trovato il rigore per riaprirla e poi alla fine ci hanno fatto un po' soffrire. Massimo Brambilla, se l'aspettava una crescita così dei suoi ragazzi e della sua squadra per come erano partiti, seppure la sconfitta contro la Dinamo era immeritata, però se lo sarebbe aspettato un percorso così? Ma sinceramente avevamo pensato di potercela giocare con tutti. Dopo la prima partita con la Dinamo Zagabria fatta bene secondo me, poi persa per alcuni episodi, la fiducia secondo me era aumentata anche se poi era arrivata una sconfitta. E poi è stato un crescendo continuo, poi le due partite con il City ci hanno dato ulteriore consapevolezza e poi penso che il primo posto, la qualificazione sia più che meritata. Adesso, tra virgolette, riposate fino a febbraio, poi ricomincia l'avventura, adesso quindi testa al campionato, anche se anche lì non c'è molto da dire a questa squadra. Sì, adesso la Youth League si va un po' in pausa, abbiamo ancora tre partite da arrivare alla sosta di Natale, tre partite da far bene perché poi dopo è vero che contano i risultati, ma conta soprattutto stare sul pezzo, migliorare, non accontentarsi mai. Penso che la mentalità nostra deve essere questa, quindi già domenica Bologna sarà una partita da fare sicuramente ancora bene. Cosa hai detto ai tuoi ragazzi quando sei entrato nello spogliatoio o comunque al triplice fischio finale dell'arbitro? Ho fatto i complimenti perché abbiamo fatto bene, anche quando poi abbiamo sofferto l'abbiamo fatto tutti assieme e quindi sicuramente ho fatto i complimenti. Poi dopo ultimamente alla fine del mio discorso c'è sempre il dottore che dice la sua ed è stato un ulteriore motivo di entusiasmo. Cosa ha detto? Si può sapere pubblico? No, quello che dice il dottore non si può dire, niente di particolare.